Avvicinarsi alle poesie di Bruce Hunter è come ascoltare la voce calda e ricca di un amico sincero. Il tipo che nella vita ne è passate tante e che in virtù di questa grande esperienza e umanità è in grado di trovare la parola giusta, il motto sapiente, l'immagine che sorprende e rincuora. Una poesia per molti aspetti terapeutica, empatica e che mostra il vero senso di ciò che può essere poiesis, quello che può fare, i frutti che può produrre, al di là degli sterili intellettualismi.